Per preparare i taglierin alla peschiera, ricetta di Maura Bosco, cuoca del ristorante Il Mondo Fricandò, occorrono tinca, cipolla, aglio, pomodorini pacchino, taglierin, basilico, sale, pepe, acqua. Sfilettiamo la tinca e mettiamo da parte i filetti. Prendiamo lo scarto del pesce e lo cuociamo in padella con acqua, cipolla, sale e pepe per ottenere un brodo. Facciamo bollire dell'acqua, saliamo e buttiamo la pasta. Nel frattempo friggiamo la tinca nell'olio bollente e soffriggiamo in una padella la cipolla, l'aglio e i pomodorini. Scoliamo la pasta, versiamola nella padella con il soffritto, mantechiamo con il brodo e serviamo. Grazie. Grazie. Grazie.